Carissimi amici benefattori italo-americani ed in particolare carissimi voi del Connecticut, del Warbury, del New Britain, di Hartford, di qualsiasi parte in cui in questo momento voi siete in ascolto. Appena venti giorni fa, il 29 del mese di marzo, ebbi la gioia di essere in mezzo a voi, sia pure per alcuni giorni soltanto, e vi mandai un messaggio. Abbiamo insieme pregato, abbiamo insieme anche considerato come la Pasqua doveva essere un sfocio di gioia e di amore perché ci parlava di risurrezione e di vita. È vero che il tempo pasquale è iniziato proprio questa notte, quando la Chiesa ci ha fatto celebrare le funzioni così belle della risurrezione del Salvador divino. Ma tutto il tempo della Settimana Santa e del tempo ancora della Quaresima sono stati momenti forti dello Spirito che ci chiamavano a una preparazione più intensa, a una revisione di vita e quindi a una conversione del cuore di cui parla il Papa in modo particolare in questi giorni. Essere veramente tutti quanti coinvolti per questa risurrezione. Tutto ci parla di vita, anche la natura stessa, con i fiori, con la primavera, ci parla che tutto risorge intorno a noi e non possiamo, non dobbiamo essere morti. Gesù ha sofferto pene atroci, egli si è fatto crocifiggere, voglia essere crocifisso. Perché? Perché attraverso la prova della crocifissione, della sua morte in croce, avrebbe potuto dare a noi tutti quanti una prova suprema di amore. Ecco, così si ama, perché colui quale ama dà la sua vita per le persone amate. Noi siamo amati da Dio. Quante volte, cari giovani, cari fratelli che mi ascoltate, voi siete magari tentati di depressione, si tentate anche di scoraggiamento, pensando forse che Dio si sia dimenticato di voi. No, è una bestemmia. Dio non si dimentica. Dio ha sacrificato il figlio suo, Gesù, sulla croce per la nostra redenzione, per la nostra eterna salvezza, per ottenerci il dono della riconciliazione con il Padre. Dio è Padre, ama continuamente, anche se ogni tante volte siamo figli incrati che lo dimentichiamo. Ecco allora la Pasqua della risurrezione. L'invito a risorgere a una vita nuova, a risorgere con un pentimento dei nostri peccati. E Gesù, quando è apparso proprio nella sera stessa della sua risurrezione, lì ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, chiusi nel Cenacolo, disse la pace sia con voi e questa pace dovete sempre tenerla. E nello stesso tempo disse salute e pace e poi disse ai suoi apostoli a qualora voi perdonete i peccati e saranno perdonati, a qualora voi non perdonete e non saranno perdonate. Quindi Gesù è venuto per ottenerci il perdono, la gioia della riconciliazione col Padre. Ecco perché la Chiesa canta, questo è il giorno fatto dal Signore, ragriamoci ed esultiamo, alleluia, alleluia. Ma per poter ottenere questa pace, questa riconciliazione occorre il perdono, sì, però anche che noi chiediamo perdono, che noi sentiamo tutti quanti figli dello stesso Padre, quindi che amiamo a Dio con tutto il nostro cuore e nello stesso tempo che ci vogliamo bene tra di noi. Ecco la vera pace, pace che deve sempre regnare in tutti i nostri cuori, pace con Dio, pace nella famiglia, pace con tutti i nostri cari fratelli ed amici, pace con tutti, perdonare le offese ricevute, comprendere quelli che soffrono, aiutare quelli che hanno bisogno di poter sentirsi fratelli e nello stesso tempo abbracciare tutti quanti nello Spirito di Cristo, perché Cristo è il Figlio di Dio, immolatosi per noi e allora questa vittima divina che una volta offerta al Padre, ci ha riconciliato con il suo Padre Celeste, ci ha fatto diventare tutti quanti fratelli, tutti i figli dello stesso Padre. Allora, quello che noi e voi avete fatto, anche per i nostri cari ragazzi, io lo ritengo che sia così valido, dovremmo ottenere senz'altro, non soltanto il perdono, quando siete veramente pentiti, ma la gioia di cominciare un cammino nuovo, una vita nuova, di pace, di risurrezione, una vita nella quale potete veramente godere la gioia e della sicurezza che il Padre ci ha perdonato. Ecco allora perché la Chiesa ci dice fratelli, vogliatevi bene, amatevi di uno e gli altri, perché la prova maggiore dell'amore verso Dio è quella di essere tutti quanti uniti come fratelli, figli della stessa famiglia, e la Chiesa è una grande famiglia, è la comunità dell'amore e della fede, e se noi siamo uniti così, per pregarci, per pregare gli uni per gli altri, il Signore sicuramente ci benedirà. E allora ecco la benedizione a Pasquale. Io imposto questa benedizione su tutti quanti voi, cari fratelli che mi ascoltate, sulle vostre famiglie, sui vostri cari vicini o lontani, quelli che sono in Italia, o quelli che sono vicini a voi, o anche sono forse all'ospedale, che sono ammalati nelle vostre case, quelli quali magari sono anziani e trascurati, a cui nessuno pensa. No, cari fratelli, Dio ci ama. Aprite il cuore alla speranza, alla fiducia. Dio vuole avere bisogno anche forse del nostro dolore per poter portare a tutti quanti un raggio di luce, un raggio di amore, un raggio di sole nelle vostre famiglie. Siate così uniti e vogliamo tutti quanti bene nel Signore. E allora sì, questa benedizione che viene a voi, mentre vi preparate al cerebrale della Pasqua del Signore, porti nei vostri cori tanta salute, tanta luce, tanta pace, porti veramente la gioia, in quelli quali sono magari senza gioia, perché forse sono afflitti per qualche croce, qualche prova che hanno dovuto subire. Facciamoci coraggio, abbiamo fiducia, Dio è con noi, Dio è per noi, Dio è in noi. Se abbiamo veramente potuto fare una santa confessione, che Gesù ci ha perdonato, e la pace regna sempre nei vostri cuori. Pace nei cuori, pace nelle famiglie, pace in tutti quanti, quelli che voi incontrate. La Madonna, con se c'è il carpinello, da lontano di quel santuario, dove sto cercando la Santa Messa, in questo momento, ha steso le sue braccia materne, e ha coperto questo manto, dicendo figli, figli miei, qui questi nostri cari orfanelli, oggi hanno tanto pregato per voi, perché potreste come sostenuti, questi sono gli angeli di conforto, gli angeli di benedizione, gli angeli che vi aiutano, e che vi precedono nel vostro cammino. A tutti, Santa Pasqua, Pasqua di gioia e di amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.